Il candidato presidente alle regionali per il patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico, ha partecipato a un incontro alla Conf Commercio per discutere su temi quali economia e commercio, ma non solo. Nella sede di Pescara D'Amico è stato accolto, tra gli altri, da Riccardo Padovano, che ha avanzato richieste e rassicurazioni su occupazione, piccole imprese, trasporti su gomma, su ferro e sull'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo. D'Amico ha precisato che dovrà esserci una programmazione, altrimenti non si giungeranno a risultati concreti. Dopo i complimenti del leader del PD Schlein ieri in Abruzzo, il candidato presidente di patto per l'Abruzzo ha incontrato i rappresentanti di Conf Commercio, Riccardo Padovano. Come associazione di categoria noi chiediamo a lui di inserire nel programma tre cose fondamentali. La prima riguarda la valorizzazione del nostro territorio che passa attraverso la trasportistica e non è soltanto legato al trasporto su mezzi, su gomme, ma anche sul trasporto, sulla navigazione, sulla valorizzazione dei nostri porti Pescara, Urtona, Vasto e poi in aggiunta va anche potenziato le linee di Vocolo, cioè il nostro aeroporto. La seconda questione, il commercio va scomparendo sempre di più nei centri urbani, i negozi chiudono. Allora, aggiunge Padovano, rimettiamo una norma regionale che attivi da subito i distretti commerciali. Ed Amico risponde alle richieste di Conf Commercio. La politica cosa può fare? Può fare moltissimo. Il presidente Padovano, più che delle richieste, direi ha steso ottimamente un manifesto, un manifesto per rilanciare un settore importantissimo come quello del commercio e dei servizi. Sono pronto a sottoscriverlo perché sono convinto, anzitutto, che ogni vetrina che si spegne, ogni seranda che si abbassa, rende i nostri centri storici più insicuri, meno eleganti, meno puliti, meno curati. Il commercio non ha solo una funzione di distribuzione delle merci, il commercio ha una funzione di vitalizzazione del centro storico. E anche il candidato del centro-sinistra insiste sui trasporti. Io voglio ricordare che Pescara nasce come Ostia Terni, il porto di Roma sull'Adriatico. È incredibile che oggi, nel 2024, il nostro sistema portuale non riesca a garantire stabilmente i collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico. E poi abbiamo l'esigenza di rilanciare l'aeroporto, anche su questo sono d'accordo. Io sul rilancio dell'aeroporto, lamento rispetto all'aggiunta uscente, non tanto e non solo la cancellazione di alcuni voli, ma l'assenza di una programmazione che possa portare qui, nell'aeroporto d'Abruzzo, dei collegamenti aerei in grado di attivare dei flussi turistici. Non mi sembra che sia stata fatta una strategia per individuare i territori, le nazioni da cui far partire i voli in collegamento con l'aeroporto d'Abruzzo per attivare i flussi turistici. E poi, più in generale, il Presidente Padovano poneva l'accento su un'altra questione di estrema urgenza, l'assistenza al credito. I nostri imprenditori, sia imprenditori direttamente ai medianti del commercio, sia nei servizi, anche i nostri imprenditori, tutti hanno l'esigenza di poter accedere al credito in condizioni non proibitive.